Un uomo di 37 anni residente in zona è rimasto ferito ieri mentre era in sella la propria moto nel corso di un incidente avvenuto a Pierantonio frazione di Umbertide. Per causa in fase di accertamento da parte dei carabinieri un'auto e una moto si sono scontrate in modo frontale. La moto letteralmente spezzata e il centauro a terra con vari traumi che è stato ricoverato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia ma non sarebbe in pericolo di vita. Le tre persone a bordo dell'auto sono state invece trasportate all'ospedale di Città di Castello per le cure del caso.